Roma organizzò i territori dell'Italia centro-meridionale che aveva conquistato tra il V e il III secolo a.C. creando una sorta di Stato federale differenziato. Le città e i territori conquistati erano legati all'autorità di Roma da tre tipi di rapporti. Il primo è l'incorporazione giuridica con la concessione della cittadinanza piena o limitata. Le città vincolate a Roma da questo tipo di rapporto erano i municipi. Essi erano autonomi dal punto di vista amministrativo, conservavano, cioè, magistrature proprie, ma dovevano fornire truppe all'esercito di Roma e pagare tributi. Alcuni municipi godevano della piena cittadinanza, ossia i loro abitanti avevano gli stessi diritti dei cittadini romani, altri godevano solo dei diritti civili. Gli abitanti potevano commerciare liberamente, contrarre matrimoni con i romani, ma non potevano esercitare diritti politici. La seconda modalità di organizzazione e controllo del territorio era la colonizzazione, cioè la creazione di centri urbani lontani dal territorio di Roma con funzione di avamposto militare o per scopi demografici e agricoli. Esistevano due tipi di colonie, le romane e le latine. Le prime erano formate da un nucleo di cittadini romani, in genere soldati in congedo, a cui era stato assegnato un lotto di terra, e dislocate nelle zone di confine o di recente conquista. I cittadini delle colonie romane godevano della piena cittadinanza. Le seconde, cioè le colonie latine, venivano fondate per scopi agricoli e demografici. I cittadini godevano solo dei diritti civili, cioè il diritto di matrimonio e di commercio. Infine, il terzo tipo di rapporto era l'alleanza o federazione. Alle città conquistate veniva imposta un'alleanza in virtù della quale esse mantenevano una relativa autonomia, ma dovevano fornire soldati e navi a seconda del tipo di trattato e i loro cittadini non potevano accedere alle cariche pubbliche né prendere parte alle assemblee.